Oh, eccoci qua, bene amici, martedì domani sarà il giorno o comunque uno dei giorni della verità. Si stringe infatti il cerchio sulla manovra 2022 da inviare anche all'Unione Europea entro il 20. E partono quindi riunioni, tecniche, cabine di regia, consigli dei ministri per decidere su reddito, pensioni, cuneo fiscale, politiche attive, eccetera. Insomma, del destino molto, molto prossimo del nostro paese. In pratica una mucchiata, draghi, partiti, tecnici, sociologi, ministri, ma la direzione in realtà è segnata e a tracciarla è stato proprio il premier. Vediamo quindi cosa accadrà facendo ordine tra mille fake news. Io sono Mr. Lul, sigla, prima mi raccomando, like, iscrizione, campanone, abbonamentone se volete aiutare il canale e seguite l'intera rassegna altrimenti poi vi perdete informazioni che vi interessano. Partiamo! Quindi martedì verità con un bel consiglio dei ministri che si occuperà proprio della manovra individuando quelle misure che finiranno nella finanziaria 2022. Un punto sicuro, ampiamente condiviso, almeno questo, sarà la riduzione del cuneo fiscale così da alleggerire il costo del lavoro gravante sulle aziende, ce lo ripetono, da anni e anche contestualmente la pressione tributaria in busta paga sui lavoratori e far così crescere il netto in busta. Ovvio, per fare tutte queste belle cose servono risorse da reperire. Dove? Beh, partiamo con l'assalto alla diligenza delle pensioni. Qualcosa, sapete, bisogna fare per forza, ma quota 100, che è una bandierina della Lega, non potrà essere confermata. Una delle ipotesi più accreditate è quella di andare a sostituirla con l'ape contributiva, ape contributiva, proposta proprio da Tridico alle Camere la scorsa settimana. Un'uscita quindi a 63-64 anni, per chi si trova nel sistema contributivo misto, con accesso inizialmente alla sola quota, appunto, contributiva e poi l'accesso alla pensione, diciamo, completa al raggiungimento dell'età di anzianità. Una tisana al biancospino, però, quella dello sbroglio, della matassa delle pensioni, rispetto a quello che ci attende col reddito di cittadinanza, che evidentemente come strumento di politica attiva, ha fallito, lo sappiamo tutti, ma era abbastanza prevedibile, visto che nel nostro paese le politiche attive non esistono. Ecco, Draghi interverrà sicuramente, non c'è dubbio, ma diciamolo, sarà nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali. Si cercherà certamente di ridurre la spesa per RDC, che è enorme, tutto questo cercando contestualmente, di allargare i requisiti di accesso, agendo poi evidentemente sui controlli preventivi, sulla formazione e rendendo l'obbligo di lavoro più stringente. Mentre, attenti, i tagli di cui si parla sull'assegno, la riduzione per i single o il décalage che ha anticipato Repubblica sabato scorso, ecco, queste per ora sono idee, indiscrezioni, ipotesi, nulla di particolarmente concreto. Le decisioni comunque definitive arriveranno solo dopo che il famosissimo comitato saraceniano tecnico-scientifico avrà consegnato la sua relazione, questione di ore, giorni. Ma il vero problema su cui tutti dovremmo concentrarci, la piaga che se non risolta ci manderà a gambe all'aria, con buona pace del pil più 6%, sono i truffatori. 15 miliardi, lo ripeto, 15 miliardi in due anni che sono stati persi, sottratti alle casse dello Stato a causa di falsi invalidi, furbetti reddito di cittadinanza e pensioni, esempio chi incassa la rendita dei parenti morti, i finti poveri che hanno ottenuto buoni spesa, REM e altri bonus senza averne requisiti, medici che lavorano privatamente pur essendo assunti nel servizio pubblico, tangenti per agevolare le imprese negli appalti. Insomma, questi sono i numeri e le magagne scoperte dall'inchiesta molto interessante del Corriere della Sera nell'epoca Covid. Vi lascio il link in descrizione, leggetela senza pregiudizio, è molto interessante. In ultimo, e nell'ambito di quella che si spera possa essere una rivoluzione degli ammortizzatori sociali, si parla di potenziare la Naspi dando anche più respiro ai percettori facendo di fatto scattare il decalage, quindi la riduzione dell'assegno non più dal quarto mese come accade oggi ma dal sesto. Detto questo fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi scampanando perché nelle prossime settimane ne vedremo delle belle o delle brutte eventualmente. E poi lo dico adesso, alla fine del video, RDC non scade a dicembre 2021, è evidentemente una fake news se qualcuno la va riportando in questi termini. Insomma, like, iscrizione, campanone, condivisione, abbonamentone se volete aiutare il canale. Alla prossima, da Mr. Lul.